le mani vanno al cielo fateli vedere, fateli sentire le mani vanno al cielo vogliamo vedere tutti i cellulari accesi tutti gli accendini accesi in questa speciale parte illumina il tuo paradiso, così da questa parte fateli vedere lo scrivono anche i siciliani passiamo la generazione di sconvolti che non hanno più salti di loro così i salti sono loro non vengono le strade che fanno i supereroi e allora i supereroi, i farfallini del extraterrestre fuori le aria al cielo fuori le antenne, fuori i grandi montagni perché solo le stelle possono capestare nuvole se voi inserate le stelle allora ancora una volta questo sarà il vostro paradiso e così insieme potremo dire questo è il vostro paradiso è il vostro paradiso è il vostro paradiso bello è il vostro paradiso Grazie a tutti Grazie a tutti